Da Paolo Genovese a Monica Guerritore, da Chiara Francini a Tullio Solegni e Massimo Lopez ed ancora Pamela Villoresi e Lodo Guenzi. È un cartellone di grandi nomi, quello della stagione 2024-2025 al Teatro Petrarca di Arezzo. Ci sono dai testi più importanti, non solo della drammaturgia teatrale come Shakespeare, come Molto l'umore per nulla, alla grande letteratura mondiale come Gogol, Tolstoi, ad interpreti di assoluto rilievo. Dal 27 novembre al 5 aprile 10 titoli per 16 appuntamenti. È una bella stagione, ciascuno potrà trovarci qualcosa di suo, qualcosa di interessante. Quello che è bello è che il nostro Teatro Petrarca, dopo la chiusura lunghissima per la sua ristrutturazione riaperto nel 2015 e quindi oggi siamo a nove anni di distanza, per il teatro è sempre pieno. Tant'è vero che dalle prime stagioni in cui c'era una sola replica, poi si è passata ad alcune repliche. Oggi le repliche sono due per tutti gli spettacoli, per qualcuno più importante saranno tre. Spazio poi anche alla danza. Con due spettacoli, anche questi di primissimo livello, un bolero e uno spettacolo con due tra i giovani interpreti di danza più interessanti della scena della danza italiana e internazionale. Ad arricchire la programmazione, infine, la stagione off al teatro Pietro Aretino. Saranno quattro spettacoli per un pubblico ampio, però riferiti proprio ai ragazzi. Si piangerà, si riderà, ma saremo sempre con loro. Parliamo di programmi, ma poi pensiamo al pubblico. La campagna abbonamenti, i nuovi abbonamenti sono già partiti. Partiranno ora i nuovi abbonati e soprattutto dal 6 novembre ci sarà la vendita libera dei biglietti.